...periorità numerica, eccolo qui Lieci che gli dà una palla... Eh, però attenzione, con la gamba è fuorigioco. Il piede è fuorigioco. È sempre difficile vederlo a velocità normale, però il piede era in fuorigioco. Questo... Eh, ma poi Lieci, ti ho detto, ti può sempre inventare qualcosa proprio. E Pelotti, nonostante una prestazione abbastanza incolore per le qualità che si ritrova, insomma, ha tagliato il campo perfettamente. Adesso andiamo a porto a campo da Bruno, perché subito dentro Stoian, no? No, Bruno, fuori Rodienne. Sì, sì, dentro Stoian, fuori Rodienne, era un cambio che si stava preparando anche prima di quest'azione. Ovviamente arriva in un momento in cui il Crotone deve subire l'1-0 del Toro. Poi lo scarico, Pelotti davanti al portiere, parte il tiro a Rete. Ancora Pelotti, Torino 2, Crotone 0. Il Torino vince ancora e c'è sempre il gatto. Qualche volta si è allungato la palla, poi c'è stato... Eccolo qua, vedi, si allunga la palla, c'è il contrasto, decisione. E poi di sinistro, Pelotti da quella posizione non perdona. In una partita, come ripetiamo, non stratosferica dal punto di vista del rendimento, ti fai due gol.